E siamo a mercoledì 30 gennaio 2019, ormai questo mese di gennaio sta per volgere al termine e noi oggi abbiamo 5 lounge dove faremo 20 oppure 15 calories low, 10 front squats, 10 handstand push up carichi e scalature come al solito sulla grafica, ci vediamo domani per un altro uomo tutti insieme Buona giornata